Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. In casa Teramo si lavora tra mercato e questioni societarie ancora da risolvere. Domani ci sarà un'importante riunione nella sede di Piazza Martiri e il presidente Filippo Di Antonio vuole avere un quadro chiaro dei soci da inserire al suo fianco nella società di capitali, la SSDRL, che entro venerdì prossimo sarà costituita necessariamente davanti al notaio per poi potersi iscrivere al campionato di eccellenza. Il presidente Di Antonio molto probabilmente prenderà quasi il 70% delle quote. Le rimanenti saranno divise tra il commercialista Marco D'Alfonso, Cesare Spinelli, Enrico Valeriani, Alfonso De Berardis e Merlini Trasporti e l'imprenditore Gabriele Martella. Sulla costruzione della squadra, dopo le conferme di Ferraioli, De Gidio, Pepe Furlan e l'ingaggio del 23enne laterale San Severino, oggi potrebbe arrivare anche la conferma del difensore Cristiano Cangemi. Sempre in entrata al Teramo piace l'attaccante brasiliano Dos Santos della Vezzano e può essere questa un'idea per il reparto d'attacco, dopo l'addio di Cosmo Palumbo e forse anche quello di Kovalo Nox nei prossimi giorni. Per il reparto di centrocampo piace il trequartista Lorenzo Emili, 25enne dal Pineto. Il discorso più complesso è legato agli under, dal momento che il prossimo anno bisognerà schierarne tre nella formazione titolare, un 2003, 2004 e 2005. La scelta degli under può condizionare altre conferme tra gli elementi più esperti della rosa. Si sta valutando poi la riconferma probabile per il jolly Andrea Censori, giocatore duttile, utile per Pomante, più difficile invece quella dell'esterno Matteo Di Giacomo. Ai saluti Stefano Cozzi, direzione Penne, Ivan Speranza che ha quasi deciso di ritirarsi potrebbe avere un ruolo nel settore giovanile. Sulla questione Stadio Bonolis è vicinissimo l'accordo con il gestore Franco Iachini per tornare a giocare a Teramo le gare interne perché la maggioranza della città è compatta in questa direzione che è quella più logica.